che è tutto in pompa ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi siamo nella nuova competizione scorte di volo con gli americani perché mi ha sponato con gli americani devo capire cosa si fa perché dobbiamo rubare le scorte però possiamo anche distruggere gli altri e robe varie attenzione attenzione allora vai si parte allora mission guidata di peteratrice ok abbiamo tutte le armi perfetto mi ha sponato praticamente con gli americani perché parlavano tutti inglesi potrebbero anche essere inglesi però a me sembravano americani oddio che puttanaio oh non l'ho preso sono passato a fianco ah la scia è verde il fumo è verde diciamo è che chi prende più scorte vince poi il round vedete sopra raga che si riempiono gli indicatori quindi devo non me la prende consegna la bandiera ah ok non avevo capito sta cosa non avevo capito sta cosa consegna la bandiera alla base quindi basta che ci passiamo da dentro scusate ma non avevo capito sta cosa qua ora l'ho letta e quindi niente vai bandiera siamo crepati bandiera consegnata allora dobbiamo quindi rubare e andare a consegnare senza farci uscire anche se è impossibile perché comunque sta un puttanaio madonna mi metto a spammare di missili adesso mi metto a spammare di missili con la violenza proprio qui sta un sacco di gente dai che la prendiamo lo preso oh oddio andiamo sotto andiamo sotto andiamo sotto passiamo da sotto perfetto passiamo da sotto e per ora stanno vincendo la squadra viola e la squadra rosa ragazzi però noi andiamo a consegnare la bandiera perfetto fatto anche noi ora siamo quasi pari a culo quelli la si stanno cagando tra di loro io me la sto sguignando ecco diciamo così però dettagli comunque ci sono sei mappe più o meno circa uh no no oddio l'hai rinco sarà un bel problema andare a prendere ha rubato la bandiera della tua ah addirittura è vero si può rubare anche si può rubare ah è vero noi possiamo andare anche a rubare le bandiere dagli altri eh eh eccole là intanto mo ci abbiamo dai 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 rubà quello della squadra mia se ne è venuta addosso spettacolare non è che tu stai stai lasciando no te ne vieni addosso così moriamo tutte e due complimenti allora andiamo di nuovo andiamo andiamo dobbiamo riandare quello ci sta fottendo la bandiera crepa si che puttanaio però non si capisce niente oddio non si capisce niente guarda guarda ci hanno rubato a noi tutte le bandiere giustamente perché sono sfigato invece alla viura non gliele ruba nessuno giustamente allora riandiamo a consegnarla ma dettagli questa è l'attività bordello questa qua allora mi dite quante ne stanno qua mi metto a spammare di missili con una violenza guarda 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 oddio ho avuto ho sentito che mi stavano mirando quello comunque vai l'ho ucciso mori mori andiamo sotto andiamo da sotto raga perfetto ah cioè vanno le bandiere a lui ce le rubano in un secondo perfetto vai la riconsegniamo anche se sarà inutile perché ah no hanno preso anche gli altri bravissimi bravissimi perfetto allora riandiamo a rubare qualcosa da vicino quindi andiamo da quelli viola andiamo a rompere le palle a quelli viola ragazzi tanto mosti stanno andando a rubare che poi qua per organizzarsi bisogna no qualche ripoco oh oddio per organizzarsi bisognerebbe che uno magari sta a difendere gli altri dovrebbero andare a rubare però ovviamente bisogna stare in cuffia a parlare eccetera eccetera rubata attenzione andiamo alla nostra andiamo alla nostra andiamo a quelle verdi anche se quelli viola stanno andando a rubare eh vedi madonna che palle noi la consegniamo subito perfetto eh quello Leo è giustamente quello è italiano ti giuro mi metto a sfammare di missili allora raga non si capisce oddio 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 no non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta bisogna passare da dentro bisogna passare da dentro ok siamo in vincita noi adesso ha rubato una bandiera io mi metto a spammare come un cileno eccolo niente abbiamo perso abbiamo perso vabbè dai comunque non è male l'idea però bisogna essere molto organizzati perché almeno così oh vai là vai lì vai a prendere quello cioè ci sta assolutamente perfetto cioè uno è la squadra ma sta qui tatuiziamo giocando in tre perché sono sfigato io ovviamente ecco perché siamo in tre contro tutti i quattro perfetto i caricamenti infiniti di questo gioco sono i più belli ovviamente ragazzi è crashata l'attività spettacolare veramente veramente è una cosa assurda 8 minuti di video che poi per fortuna il gameplay è durato anche abbastanza perché ci vuole del tempo per vincere ma dettagli io la concludo qua perché veramente sono rimasto di merda sono rimasto veramente di merda e adesso registrarne un'altra ci vorrebbe tanto di quel tempo perché poi bisogna vincere più round eccetera eccetera ditemi se l'attività è carina comunque avete visto un po' di gameplay io sono rimasto di merda veramente male proprio crashata di violenza ovviamente tu fai una cosa crasha sempre giustamente per questo video di merda finito male è tutto io vi ricordo al prossimo video ditemi se l'attività vi piace se magari è carina se vi piace se l'avete provata soprattutto è un po' confusionale ma noi ci becchiamo al prossimo video lasciate un like iscrivetevi al canale bella ragazzi iscrivetevi al canale grazie a tutti